E quando si dice che comunque il mangiare, il cibo è una vera arte, beh devo dire che ultimamente gli ultimi sviluppi che hanno accompagnato proprio il mondo della gastronomia ne sono una prova vivente. Perché? Perché si iscrive tantissimo anche sul cibo, quindi si danno tantissime informazioni, si danno tantissimi consigli e io oggi vi voglio presentare proprio una persona che fa tutto questo, perché lei è autrice su fanpage.it e si occupa proprio di food, sto parlando di Francesca Cavallari, benvenuta. Grazie mille, grazie per avermi invitata. Allora cara Francesca, ma come fai a scrivere di tantissimi piatti, cioè li devi provare tutti quanti? Sì, in gran parte dei casi ho la fortuna di gustare questi piatti creati da ristoranti, da chef e poterli degustare. Quindi fortunatissima? Fortunatissima, sì. Un lavoro perfetto, un lavoro che magari in tanti vorremmo fare, però ecco raccontaci un po' la tua storia, quindi come nasce questa tua collaborazione con fanpage.it? La mia collaborazione con loro nasce per caso, diciamo nel 2011, quando proprio la realtà di fanpage ha iniziato a farsi viva su internet, soprattutto sui social, ai tempi proprio su Facebook. Cercavano degli autori che scrivessero per loro, io in quel momento ero a casa perché ero in dolce attesa dei miei gemelli, e quindi diciamo un po' mi annoiavo e allora ho detto vabbè proviamo, mandiamo qualche mio scritto che avevo, vediamo se piace. E da lì infatti sono rimasta entusiasta, mi hanno voluto coinvolgere, infatti hanno creato per me la mia pagina. E da lì è iniziata questa esperienza, inizialmente per altre argomentazioni perché ero appena una trentenne, quindi io passavo il periodo dai miei vent'anni ai miei trent'anni ed ero diciamo in quella fase un po' di crisi, tra virgolette. Dopodiché nel tempo, assaporando la vita familiare, quindi anche con i bambini, ho iniziato anche a cucinare di più a casa, scoprendo che mi piaceva anche cucinare. E ho detto ma perché no, facciamo due foto, proviamo, e quindi sui social ho iniziato a essere più attiva e da lì ho iniziato a avere delle piccole collaborazioni con alcune food blogger che mi hanno dato anche l'opportunità di vedere questo mondo e mi è piaciuto. Bene, quindi diciamo hai iniziato a scrivere di food un po' per caso, però ad oggi che cosa ti piace invece di questo mondo, tanto da continuare a parlarne? Di questo mondo mi piace vedere l'aspetto emotivo dei tanti chef che vengo a conoscere, perché il food è analizzato, criticato, a volte anche in maniera attenta, criticato in certi casi. Mi piace vedere più l'aspetto emotivo, cercare di capire perché quello chef ha deciso di credere in se stesso, aprire un'attività che non è facile e mandare avanti questa attività che è molto piena, cioè uno chef non ha tempo tutto il giorno. La vita della ristorazione è molto particolare. È molto particolare e quindi questo è l'aspetto che mi piace sempre cercare di valorizzare. Poi ho la fortuna in alcuni casi anche di visitare proprio le cucine, quindi vedere la brigata come lavora, il retroscena di un piatto, quindi anche come nasce l'idea di creare il menù, perché vogliono cambiare il menù anche stagionalmente. Anche come nascono per esempio tanti accostamenti all'interno di vari piatti che sono anche molto curiosi e molto particolari. Esattamente, in alcuni casi ci sono ristoratori che si spostano, viaggiano e cercano di trovare dei fornitori, non solo di zona, perché alcuni ad esempio non accettano il chilometro zero, come Igles Corelli, lui dice io non credo al chilometro zero perché la patata di Avezzano è di Avezzano, io se voglio quella per un mio piatto devo chiederla ad Avezzano, anche se sono in Toscana. Altri invece assolutamente solo del territorio e quindi vai a scoprire, ho conosciuto dei piccoli produttori e anche dei giovani che hanno creato anche delle nuove start-up che ho avuto piacere di intervistare e di conoscere. Che ne so, ho degustato il Fingerlime anni fa quando fu il primo a parlarne Cracco e scoprire che viene prodotto in Calabria, per dire c'è una grande distribuzione in tutta Italia, oppure ci sono due giovani ragazzi della Brianza che producono micro-ortaggi, anche loro mi hanno inviato delle campionature da provare perché il micro-ortaggio, a differenza dell'ortaggio finito, del frutto che noi mangiamo, il micro-ortaggio ha anche dei principi nutrizionali completamente diversi e anche in alcuni casi migliori per la nostra salute. Assolutamente. Che poi ecco, in realtà invece, tu che cosa ne pensi per quanto riguarda tutti questi modi o comunque anche filosofia di vita riguardanti il food? Quindi chi è vegetariano, chi è vegano? Io rispetto molto queste libertà anche perché francamente sono anch'io stessa curiosa nel degustarle. Ho assaggiato ad esempio un camion menu in un ristorante in Prati che è completamente crudista, quindi quello che ho mangiato non era solamente vegano ma era anche crudista, devo essere sincera, mi è piaciuto tantissimo. Quindi forse l'errore a volte è quello di criticare chi è vegano, chi è vegetariano, considerandoli come persone che sono limitate a quel tipo di gusto. Nella realtà c'è molta ricercatezza, anche nella combinazione di gusti e cercando di renderli molto gustosi. E poi in realtà, cara Francesca, questa opportunità quindi di collaborare con Fabpage.it te ne è aperta un'altra perché io so che tu hai collaborato anche alla creazione, anzi ti sei occupata tu stessa della creazione di etichette per vini con un'azienda veneta. Sì, mi sono occupata di one level design proprio grazie ai social perché tra le mie passioni c'è anche quella del disegno, ha uno stile piuttosto grafico e quindi postando qualcosa ogni tanto su Instagram sono ritornata in contatto con una mia vecchia amica che appunto lei lavora in questa grande azienda veneta che produce solo ed esclusivamente vino biologico distribuito in tutta Italia ma soprattutto in America, in Nord Europa, in Svezia e anche in Giappone. E quindi mi hanno detto ma perché no, ricreiamo queste due etichette per questa linea che abbiamo ormai storica per la grande distribuzione e il soggetto erano i supereroi. Quindi ho fatto delle bozze e alla fine sono stati scelti proprio Batman e Wonder Woman. Quindi è una bella soddisfazione mi dicevi magari vedere ecco sugli scaffali per esempio, ecco mi ha nominato Natura Si, queste etichette fatte da te. Infatti sono ovviamente andata nei Natura Si a farmi selfie perché... L'ho fatto io. L'ho fatto io, cioè la cosa che non ti rendi conto è che quando vedi un prodotto tu ti diamo forse per scontato anche le etichette che ci sono sui prodotti dietro. C'è tanto lavoro. A parte ovviamente le grandi aziende di grafica, di grafici che ci lavorano, però ci sono queste piccole nicchie come me di appassionati del disegno un po' pseudo artisti che vogliono cimentarsi. Io ho avuto questa bellissima opportunità e ne avrò ancora un'altra perché già sto lavorando la linea invece del frizzante, del rosato e quindi già ho qualche idea da proporre ed è molto piacevole perché posso sempre occuparmi di cibo però in maniera un po' più creativa e entrare in questo mondo anche in maniera diversa. Beh, diciamo Francesca che la tua storia mi fa pensare molto a quello che è il destino. Nel senso che probabilmente era il destino che dovesse andare in questo modo, che tu dovesse entrare a far parte di questo mondo perché poi nel momento in cui è tutto scritto ti succedono le cose come reazioni a catena, quindi sicuramente ti si apriranno davanti tantissime altre opportunità e noi te le auguriamo soprattutto. Grazie mille. Quindi io direi a questo punto di dare tutti quanti i tuoi contatti proprio per venirti a scoprire e venire soprattutto ad utilizzare magari i consigli che tu ci dai e andare a conoscere tantissimi posti nuovi. Quindi io ricordo che è qui con noi Francesca Cavallari, lei autrice sulla fanpage, sul foodblog fanpage.it e poi ricordiamo anche quindi dell'etichetta di questo vino, come si chiama? Mi hai detto? La cantina è Cantina Pizzolato. Ok. E distribuita in tutta in natura, sì. E quindi andatela a vedere perché se vedete l'etichetta con Batman e Wonder Woman l'ha fatta la nostra Francesca. Quindi la potete contattare tramite Facebook Francesca Cavallari, ma non solo, abbiamo anche il sito web autori.fanpage.it slash francesca-cavallari, ma anche e soprattutto Instagram francicava, quindi potete vedere tutte le varie foto che posta. E poi anche Twitter, chiocciola franci underscore cava. E per qualsiasi tipo di informazione, oppure perché no, magari avete un'attività commerciale la volete invitare nel vostro ristorante, pizzeria, francicavo80.gmail.com. Francesca, vuoi ringraziare qualcuno, salutare qualcuno, lanciare un messaggio? Io ringrazio tutte le persone che con questa opportunità ho conosciuto e sto conoscendo, perché come hai detto tu prima, le cose quando poi capitano continuano a ripetersi. E ringrazio chi crede in me, chi ha creduto in me, che mi dà delle buone e ottime opportunità per farmi conoscere e per stimolarmi a migliorare. Assolutamente, ma poi soprattutto ringraziamento speciale a te stessa per l'impegno che ci metti, la passione e la voglia di andare sempre oltre. Quindi complimenti, io ve la ricordo ancora, Francesca Cavallari, autrice food su fanpage.it. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. E questa è Benite Roma, la notte che continua solo su Radio Radio.